Storie di Serie A, su Radio Serie A con RDS Un saluto da Alessandro Alciato, da Settimo Torinese In questa puntata di Storie di Serie A parleremo di un attaccante e di un uomo Di un attaccante che ha vinto molto, soprattutto con la maglia della Juventus E di un uomo che ha sofferto altrettanto Un uomo, un attaccante, che si chiama Michele Padovano Ciao Alessandro, buongiorno a voi La tua è una storia incredibile e entreremo in questa storia nel corso della nostra intervista Per raccontarla, se sei d'accordo, io partirei dalla fine Partirei da una data in particolare, 31 gennaio 2023 Cosa è successo quel giorno? La salvezza Un'emozione che faccio fatica a trasferire, che io nella mia vita, devo dire, non ho mai provato assolutamente Perché anche se ci speravo da tantissimi anni, però un'emozione del genere quando gli avvocati mi hanno chiamato Gridandomi, Michele sei stato assolto e finita È stata una liberazione che per me e per la mia famiglia, mia moglie e mio figlio in particolare Che erano con me in quel momento, è stata una gioia davvero pazzesca Dopo 17 anni ti hanno assolto, dopo 17 anni hanno certificato che tu non fossi un trafficante internazionale di droga Però la domanda è questa, cioè dopo il carcere, gli arresti domiciliari, l'obbligo di firma, i no quando chiedevi di poter vedere tuo papà Che stava morendo, la perdita di fatto dell'intero patrimonio accumulato durante la carriera Ecco, dopo tutto questo si può essere totalmente felici per una soluzione? Sì, assolutamente sì, chiaramente non dimenticando quello che è successo in questi 17 anni Perché 17 anni sono un tempo interminabile, dove ci sono stati degli step importanti, molto negativi Che chiaramente me li porterò dietro per tutta la vita Però dico anche sempre che oggi fortunatamente è una storia che io posso raccontare Ci sono molte persone che non la possono raccontare perché o margiscono in galera da innocenti Oppure peggio ancora, si ammalano e muoiono Perché delle botte del genere sono davvero importanti Quindi io ringrazio Dio, la mia famiglia che mi è stata vicino E il mio carattere che mi ha aiutato ad affrontare e superare certi momenti Che non auguro neanche al mio peggior nemico 8 anni e 8 mesi di condanno in primo grado, 6 anni e 8 mesi in appello Poi tutto annullato in Cassazione Ecco, come definiresti quei 17 anni dal 2006 al 2023? Perché tutto è finito nel 2023 ma tutto era iniziato nel 2006 Terribili, terrificanti dove non c'è stato giorno che io mi alzassi la mattina Andassi a letto con questo pensiero che dovevo cercare di risolvere in una certa qual maniera Quindi io devo ringraziare moltissimo i miei avvocati Che dopo la condanna in appello ho cambiato Che sono Giacomo Francini e Michele Galasso Che sono entrati veramente in grande sintonia Hanno preso questa vicenda come fosse la loro Studiavano notte e giorno, mi chiamavano la notte alle 3 Per capire qualche passaggio che magari gli era sfuggito E quindi li ringrazio perché mi hanno tirato fuori da una vicenda Che era diventata molto molto complicata Come è iniziato tutto? Se non sbaglio con un prestito di 36 mila euro A un amico che ha detto Gli utilizzo per acquistare un cavallo Sì sì, ma non solo detto, l'abbiamo anche dimostrato Lui chiaramente è un amico che io non ho mai rinnegato questa amicizia Siamo cresciuti insieme da bambini Quindi tantomeno lo faccio adesso Perché sono sicuro e convinto che lui quei soldi li abbia usati veramente per comprare dei cavalli Mi chiama al telefono, me li motiva dicendomi che sta comprando e vendendo cavalli E quindi gli serve questo prestito Io conoscendolo gli dico guarda l'unica precauzione che prendo E li darò a tua moglie In modo tale da non essere coinvolto Proprio quello ha insospettito gli inquirenti E di lì è partito tutto un iter Che sinceramente secondo me ci sarebbe voluto meno di 17 anni Per chiarificare, chiarire appunto Ma purtroppo ci sono voluti tutti questi anni Ma comunque è iniziata così Diciamo che quest'amico non aveva la fedina penale pulita E quindi insomma tutto è partito da lì Sei nato a Torino alla fine degli anni 60 in periferia a Torino Che luogo era la periferia di Torino in quegli anni? Ma noi siamo nati per strada Quindi chiaramente era A me Io sono cresciuto con il pallone in testa Cioè io avevo dall'età di 5 anni Ben chiaro il concetto di Non di fare il calciatore Ma di giocare a pallone in qualunque momento Quindi io giocavo a pallone dalla mattina alla sera E quindi per me era molto chiaro Che dovevo arrivare a fare qualche cosa di importante nel mondo del calcio Ho avuto la fortuna di riuscirci Anche grazie a papà Che è stato il primo devo dire A capire che io avevo delle doti Già quando avevo 13-14 anni importanti Quando io ancora non ci credevo Lui già pensava che potevo fare il calciatore Quindi era una Torino difficile Particolare Che però a me mi ha salvato Perché all'età di 16 anni Io sono andato via giocando a calcio Nelle varie città Che sicuramente conoscete benissimo quali sono Sai cosa mi sta colpendo Siamo solo i primissimi minuti di intervista La tua serenità assoluta Cioè io non vedo un minimo di Passami il termine Incazzatura Nonostante tutto quello che hai passato Ma no perché non Non mi servirebbe essere arrabbiato con nessuno Cioè ormai ho risolto il problema Ne siamo saltati fuori E quindi credo che sarebbe controproducente Gridare contro tutto e tutti Non credo sia il formamentis giusto Io come ho sempre dichiarato Ho sempre creduto nella magistratura e nella giustizia Nonostante anche le condanne in primo grado E in appello Ero convinto che i giudici Prima o poi si sarebbero veramente convinti Che io in questa vicenda non c'entravo nulla Ho avuto bisogno di cambiare gli avvocati Che magari hanno fatto vedere meglio le cose Ai giudici Però di questo io ho anche ringraziato i giudici Che mi hanno assolto Perché l'alternativa era la galera La galera lo assaggiate Sinceramente ne faccio volentieri a meno Ti va di ripercorrere alcune tappe della tua storia Proprio per far capire a chi ci guarda Chi ci ascolta Cosa hai dovuto subire Ti direi un'altra data Prima abbiamo parlato del 2023 Ti cito il 10 maggio 2006 Quando sostanzialmente tutto inizia Sì Io sono a cena con degli amici Tra l'altro ero anche candidato come politico Si distribuivano i santini al ristorante Con la tua faccia Con la mia faccia Quindi come li saluto i miei amici Per andare a casa Salgo in macchina E vengo fermato da tre macchine Con una decina di persone armati Che mi arrestano Con modalità anche abbastanza forti Abbastanza dure Io devo dire la verità Ho pensato subito a scherzi a parte Era il periodo che facevano gli scherzi ai calciatori Quindi ero convinto che da un momento all'altro Sarebbero saltate fuori le telecamere E mi avrebbero detto che era tutto uno scherzo Pian piano che il tempo passava Mi sono reso conto che così non era Perché mi hanno portato prima a Venaria Alla caserma dei Carabinieri Dove ci sono state le foto segnaletiche Le impronte digitali Quindi tutto il procedimento del percorso Che loro dovevano fare Poi di lì mi trasferiscono a Cuneo Dove ci rimango dieci giorni in isolamento Dove io rimango in questa cella Per dieci giorni e dieci notti Non vedo l'aria Non faccio una doccia Non vedo nessuno Se non il giudice Che lui stesso mi dice Io ti consiglio di non parlare Perché quindi io non vedevo l'ora Di poter parlare con qualcuno Per spiegare le mie ragioni E invece ho dovuto In quel momento non sapevi ancora Di cosa ti accusavano? Sì perché mi hanno dato un'ordinanza Dove mi dicono che studiatela Perché qui c'è tutto quello di cui tu sei accusato E quindi io in quei dieci giorni E di cinottimo sono studiato praticamente a memoria Chiaramente più leggevo E più mi rendevo conto Che sicuramente si sarebbero resi conto dell'errore Tant'è vero che dopo i dieci giorni di isolamento Una guardia carceraria mi dice Prepara le tue cose che te ne vai Io ero convinto di andare a casa Invece mi mettono su un blindo E mi portano al carcere di Bergamo Lo speciale che Però quantomeno Arrivo e vedo delle persone Mi mettono in cella con un altro ragazzo E di lì ci sto tre mesi E dove dopo questi tre mesi Mi mandano agli arresti domiciliari Per nove mesi Dopo questi arresti domiciliari Altri cinque mesi di firma Tutti i giorni Diciamo che è stato un percorso abbastanza duro Che io quello che dico sempre Che se non avessi avuto di fianco Mia moglie, mio figlio e la mia famiglia Che ha sempre creduto in me E mi hanno supportato Non ce l'avrei fatta sicuramente E mi hai mai pensato di farla simile? No, quello mai nella vita Non è stato mai un pensiero Che mi ha Anzi io dal primo giorno Ho sempre pensato Ci volesse anche tutta la vita Ma io devo dimostrare Che in questa vicenda non c'entro nulla Quindi ho cominciato a lottare Come un leone su tutti i fronti E chiaramente attraverso avvocati Udienze, processi Che in 17 anni sono stati veramente moltissimi Sono alcune cose che mi hanno colpito Conoscendo la tua storia Una, tu hai detto Parlando del resto Sono state utilizzate modalità molto dure Cioè è successo ad esempio Che ti abbiano preso la faccia E messa in terra Come si vede nei film Se loro mi avessero chiesto di seguirli Io li avrei seguiti normalmente Invece probabilmente quello era il protocollo Hanno fatto questo Io, volevo dire Sono rimasto scioccato da questa cosa qua Perché chiaramente A maggior ragione io pensavo a uno scherzo Perché ho detto impossibile Mi avessero chiesto ci segua Io li avrei seguiti molto serenamente Molto tranquillamente Nei primi dieci giorni in carcere in cui sei stato da solo Quali erano i pensieri? Perché immagino che tu non avessi mai visto un carcere Prima di allora Cosa succede? Io mi ricordo di te Che esulti sotto la nuova I tuoi gol in Champions League Mi viene difficile immaginarti da solo in una cella Cosa si pensa in quel momento? Ma io ho pensato subito a un errore chiaramente Ho detto ci sarà Voglio dire qualcuno che si renderà conto In fretta Che io in questa vicenda non c'entro nulla Quindi ne devo saltar fuori Quindi ogni minuta Minuto Ora che passava Io pensavo che arrivassero Per dirmi Vattene a casa È stato un errore Questo non è successo Purtroppo ho dovuto sopportare Questi dieci giorni di isolamento Che sono stati veramente duri Terribili Perché è una cella Dove c'è una turca Dove c'è una branda Con neanche un materasso Ma è una cosa di gomma piuma Con delle coperte tiscenti Una roba veramente brutta Che secondo me loro fanno per piegarti E per cercare di farti parlare Cosa che io non voglio dire Non avevo nulla da dire Se non la verità Quindi non vedevo l'ora Di confrontarmi con un magistrato O chi per esso C'è da impazzire però Se uno è innocente E dice innocente Nessuno ricadrà in carcere Tutti riconoscono Sono innocente Anche chi non lo è Credo ci sia da impazzire Si vada vicino Diciamo che è molto sottile È molto dura Però io ho un forma mentis Che in tutte le esperienze Che ho vissuto Ho cercato sempre di trovare La situazione positiva E devo dire che In quei dieci giorni lì Sicuramente non l'ho trovata Perché ero da solo Come un cane Ma negli altri mesi di detenzione Ho conosciuto delle persone Che avevano una sensibilità Che a me mi ha colpito Io sinceramente pensavo Che fossero così Perché ero Michele Padovano E scalciatore Famoso E invece ogni qualvolta C'era qualcuno Di nuovo che arrivava C'era una grandissima disponibilità Nei suoi confronti Gli davano l'accappatoio Il dentifricio Lo spazzolino Erano disponibili Veramente al massimo Proprio Una volta verificato Che eri un uomo vero Non era molto disponibile Forse la guardia carceraria Che ti ha Che ti ha dato il benvenuto Per modo di dire a Bergamo E ti ha salutato così Padovano Adesso i tuoi soldi Te li puoi ficcare nel culo Io ero chiuso In questa cella Quindi non ho mai visto La faccia di questa persona Perché sentivo le voci Che loro da fuori Gridavano Questa cosa qui Me ne sono fatto una ragione Pensavi al calcio In qualche modo? Beh Diciamo che avevo altro Da pensare in quel momento Però io Soprattutto quando Siamo arrivati a Bergamo Erano iniziati i mondiali E quindi io Vedevo tutti i miei Ex compagni Che erano lì a giocare Del Piero Lippi Ciro Ferrara Buffon Cannavarco Sono stati avversari E ho fatto il tifo per loro L'invidia è un sentimento Che io non ho mai conosciuto Quindi anche in quel momento Io facevo un tifo Sfrenato per loro Assieme a tutti gli altri detenuti Che erano veramente Molto molto tifosi Come hai vissuto Quello mondiale del carcere Ci racconti qualche episodio Ad esempio Testata Di Zidane a Materazzi Cosa succede? Beh c'era Qualche commento Non proprio gentile Di qualcuno Che sapeva Che io avevo giocato Con Zidane Perché era Voglio dire Abbastanza noto Che gli avrebbe Volentieri L'avrebbe trattato In maniera Poco consone Poco educata Sicuramente Quindi nel libro Lo spiego bene Entro nel merito Nel dettaglio Molto più Di quanto possa fare adesso Però sì Erano Momenti che aspettavano Tutti quanti In maniera molto importante A tal punto Che è un aneddoto Molto carino E che i detenuti Dicevano Che io portavo fortuna Perché l'Italia Ha vinto i mondiali E poi fu il periodo Dell'indulto Quindi ci furono Tantissimi detenuti Che furono liberati Perché Con i tre anni Di indulto In meno Sicuramente Chi doveva scontarli Sono stati abbonati E' uscito prima Come avete festeggiato La vittoria dell'Italia? Beh Eravamo chiusi in cella Chiaramente Quindi Io e il mio compagno Lui si è alzato Mi ha abbracciato E' stato proprio Come se Veramente Avessimo fatto gol noi Quindi E' come se avessimo davvero vinto Come credo Abbiano fatto tutti gli italiani In giro per l'Italia Nei bar E nelle case Poco fa Hai citato un libro Il tuo libro Si chiama Tra la Champions E la libertà E' bellissimo E' bellissimo Perché sembra di essere Di essermi con te E' un libro duro E' un libro vero Sai cosa mi ha colpito Particolarmente Tutti gli amici O presunti tali Che spariscono Nel momento In cui Tu vieni arrestato Si è così Io Prima di essere arrestato Avevo la casa piena di gente Avevo il telefono Che squillava in continuazione Ma devo dire Che anche da questa vicenda Io ho imparato Che le persone Che mi erano vicino Lo erano per quello Che avevo Non per quello che ero E quindi Evidentemente Non erano amici veri E quindi Non mi sono perso nulla Quindi le persone Che mi sono state Veramente vicine Sono quelle Che continuo a vedere Che continuo a frequentare E che si è cementata Ancora di più Quell'amicizia Molto forte In cui io credo ancora Una persona Non ti ha lasciato mai solo Gianluca Vielli Gianluca è stata Una persona Meravigliosa Non c'è giorno Che io non gli dedichi Un pensiero Perché Lui era veramente Una persona Al di sopra Di tutti Lui oltre a essere Un grande giocatore Un leader in campo Con me si è comportato Da davvero amico Perché Ogni qualvolta La mia famiglia Veniva A trovarmi In carcere Al colloquio Lui il giorno dopo Chiamava mia moglie E gli chiedeva Del mio stato Quindi io questo Non l'ho mai dimenticato Anzi Come sono arrivato a casa È stata una delle prime Telefonate che ho ricevuto Ed eravamo talmente commossi Che non riuscivamo a parlare In quei momenti Succederano delle cose Terribili All'esterno Dicevano cose terribili Su di te A un certo punto Ti hanno accusato anche Di cedere droga Gianluca Viena Sì Infatti io dico Che molto spesso Giornali E televisioni Devono andarci cauti Perché Dietro certe storie Ci sono le famiglie Cioè io Vabbè Io sono un uomo Non c'ho carattere L'ho affrontata Ma Mio figlio All'epoca Aveva 13 anni Era un ragazzino Che gli è stata distrutta All'adolescenza Praticamente Perché era il figlio Di un giocatore famoso Di una persona Che conoscevano tutti E quindi Ti lascio immaginare Quando andavo a scuola La vita di tutti i giorni Che deve andare avanti Mia moglie stessa Ha dovuto Sopportare tante falsità E tante cattiverie Che purtroppo Sono all'ordine del giorno Nel genere umano Qualcuno dopo la soluzione È tornato Chiedendoti scusa Magari Qualche presunto amico Tornato di nuovo Amico Forse Devo dire che Ho percepito Grande sensibilità Intorno al mio caso Sono tornati in tanti Ho sentito Tante persone Mi ha fatto piacere Devo dire Ma io non ero ancora Nei confronti di nessuno Perché È chiaro Mi avrebbe fatto piacere Magari Della vicinanza Da parte Di qualcuno Che ha condiviso con me Delle cose importanti Però questo non è successo Io ne ho preso atto E sono andato avanti Per la mia strada Cercando di Tirarmi fuori Da una vicenda Che era molto Molto complicata Prima dicevo Che mi colpisce La tua serenità Perché Hai perso anche A livello economico Molto Nel corso Nel corso degli anni Allora Scusa se te lo chiedo Ma per trasformare i numeri Per far capire la gente Cioè tu In carriera Si può dire più o meno Quanto hai guadagnato E quanto ti è stato In qualche modo Portato via Perché Perché poi gli avvocati costano Perché Perché i soldi A un certo punto Finiscono E quindi Insomma Bisogna Bisogna fare altre attività Poi tu Insomma Hai aperto un bar Lo racconteremo Poi hai fatto Hai fatto altro Cioè Quanto hai perso Quanto ti ha portato via Economicamente Questa vicenda Tutto Ma io Non parlerei di numeri Perché Tutto rappresenta bene Cioè Spiega bene Perché Io Il 10 maggio del 2006 Ero un'altra persona Avevo Delle proprietà immobiliari Avevo Una casa importante Avevo Un lavoro Che mi permetteva Di mantenere La vita che conducevo In maniera serena Chiaramente Dopo questa vicenda Bisogna Difendersi Gli avvocati costano La vita costa E quindi In 17 anni Io sfido chiunque A non avere entrate E meno male Che qualcosa c'era Nel salvadanaio Perché se non ci fosse stato Qualcosa nel salvadanaio Sarebbe stata ancora Molto più dura Ma Devo dire che oggi La mia vera ricchezza È la mia famiglia Sono i valori veri Le persone A me care Vicine In modo importante Quindi Il resto A me Non interessa Certo Mi piacerebbe Riprendermi Quello che mi è stato tolto Con tanta ferocia Attraverso Un lavoro Magari nel mondo del calcio Nel mondo dello sport Adesso questo vedremo Come ti dicevo prima Percepisco Molta sensibilità Intorno al mio caso E quindi Credo che Qualche cosa succederà Detto questo Non mi voglio guardare dietro Ma mi piacerebbe Guardare il presente E il futuro In maniera molto più serena Michele Ci stavi raccontando Di un futuro Nella tua testa Che potrebbe essere O almeno insomma Questa è la volontà Nel mondo Nel mondo del calcio Cosa ti piacerebbe fare? Ma io Ho l'attestato Da direttore sportivo Mi piacerebbe Restituire In una certa qual maniera Quello che ho ricevuto Dal mondo del calcio Perché ho ricevuto tanto Ho ricevuto tantissimo Ho fatto una carriera Eccezionale Quindi sono convinto Che sia attraverso L'esperienza Che ho avuto Nel mondo del calcio Che anche la mia vicenda Potrebbe essere Di aiuto Magari anche A ragazzi giovani Un settore giovanile L'importante Che mi arrivi Una proposta Da parte di un club Solido Che abbia dei progetti A lunga scadenza Non a 3-4 mesi Come spesso succede E vedremo Vedremo Sul tavolo ci sono Un paio di cose Che stiamo valutando Vediamo un po' Cosa succederà Mi sembri prontissimo Assolutamente Questo non ci sono dubbi Per ricominciare Ma una curiosità Cioè è vero Che un altro sogno A breve termine È il mondiale di Bigliardo Partecipare Al mondiale di Bigliardo Questa è una mia Grande passione Che ho Da 6-7 anni Partecipo A gare Sono iscritto Alla federazione Di Bigliardo Mi piace Davvero molto E a settembre Ci saranno i mondiali Tra cui le qualificazioni Le faranno qui A Settimo E a Rivoli Dove io sicuramente Parteciperò Chiaramente Se vai avanti Poi incontri I mostri sacri Quelli veramente professionisti Che sono Veramente molto molto bravi Ma il bello di questo sport È che ti puoi confrontare Anche con loro Se vai avanti E quindi è fantastico È un bell'insegnamento Molto 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 Un insegnamento bellissimo Anche per gli altri Sicuramente Sarebbe il tuo secondo mondiale Vinto quello per club Con la Juventus Questo sarebbe un mondiale Di Bigliardo Vabbè Allora ti seguiremo Insomma facciamo Sicuramente Il tifo per te Prima quando parlavi Di Zidane Della finale Seguita in carcere Degli altri Che non l'han trattato Benissimo Mi è venuta in mente Una partita contro il Vicenza Allora Punizione Pallone in terra Vicino al pallone Alessandro Del Piero Zinedine Zidane Michele Padovano Del Piero fa un passo a lato Zidane anche Dice no no Tirala tu Michele Credibile Credibile Quell'anno lì Zidane I primi mesi Era veramente Un ragazzo meraviglioso Molto timido Che era Faceva fatica Veramente le parole Le dovevamo cavare Con le tenaglie E in quell'occasione lì Lui mi guardò a me Mi disse Calciala te Calciala te Io l'ho guardato Come dire Ma questo è pazzo Cioè vuol dire In allenamento Punizioni così Erano tutte all'incrocio Dei pali Tutte in porta Quasi tutti i gol E nella partita Lui non Non se la sentiva Di calciarla Quindi Succede anche questo Ai grandi campioni Ridere Pensando poi alla carriera Che ha avuto Ai gol Che ha segnato Che ha segnato Su punizione Che è il compagno Di squadra Che ti ricordi Con più felicità Beh Gianluca Vialli Gianluca Vialli Era una persona Meravigliosa C'è la mia scelta Di andare a giocare In Inghilterra È stata dettata Proprio dal fatto Che lui era là Quindi avevo Altre opportunità Potevo andare In altre squadre Però decisi Di andare a Londra Perché sapevo Che c'era lui Che mi avrebbe aiutato Nell'inserimento E così è stato Abitavamo a 300 metri Di distanza Eravamo sempre a pranzo A cena insieme Quindi ci siamo frequentati Più Quando eravamo a Londra Che non a Torino Hai mai smesso Di firmare autografi Ma devo dire Che ultimamente Mi ha stupito Questo affetto Che c'è da parte Di tifosi Nei miei confronti E quindi C'è stato Un incremento Importante Nella firma Negli autografi Nelle fotografie Che per carità Io sono fiero Orgoglioso E onorato Perché i tifosi Mantengono alto E vivissimo Il ricordo Di noi Che giocavamo Trent'anni fa Quindi Questo per me È motivo d'orgoglio Io sono davvero Onorato Ogni volta Qualche tifoso Della Juventus O di altre squadre Mi chiede un autografo O una firma O una fotografia Me lo ricordo Me lo ricordo Me lo ricordo Molto bene Me lo ricordo Molto bene Devo dire Che Sono davvero Onorato E orgoglioso Ogni tanto La scorsa settimana Sono andato A un evento Dove fuori C'erano dei tifosi Che hanno cantato Il coro E per me È stato Meraviglioso C'era con me La mia famiglia Mia moglie Mio figlio Che si sono stupiti Anche loro Perché ripeto Sono passati tanti anni Però il ricordo È sempre molto vivo E molto forte Tu hai segnato Nella finale di Champions Uno dei rigori decisivi In semifinale Con il Real Madrid Avevi fatto Quarti di finale Quarti di finale Con il Real Madrid Un gol pesante Cosa resta oggi Di quei momenti Palmares Quello non si tocca Quella storia Rimane L'impronta Nel cuore Nella mente Rimarrà sempre Su quello Non ci sono dubbi Ho la mia vetrinetta Con tutte le coppe Che ho vinto Quindi ogni tanto Me la guardo E scappa La lacrimuccia È un sorriso Importante Perché sono vittorie Che devo dire Io devo ringraziare La società Juventus Che mi ha dato L'opportunità Di arrivare in un club Così importante E così forte E tutti i compagni Che mi hanno aiutato Nell'inserimento Perché loro erano Una squadra già forte Avevano vinto il campionato L'anno prima E l'anno dopo Siamo riusciti A vincere la Champions Quindi io ringrazierò Sempre i miei compagni Che mi hanno aiutato Nell'inserimento Sai oggi Oggi quando una squadra Vince la Champions League Torna in aereo Nella propria città C'è il delirio C'è l'inferno Ci sono tifosi all'aeroporto Per le strade Non si riesce quasi a scendere Dalla scaletta La Juventus vince La Champions League Anzi Coppa dei Campioni Contro l'Ajax Torna a Torino Atterrate a caselle Cosa succede? Il deserto Infatti noi ci chiedevamo Se ci sarà pieno di gente Invece non c'era nessuno Perché Nessuno intendi proprio nessuno Nessuno Erano le 4 della mattina Non c'era nessuno E noi andammo a festeggiare In una discoteca di Torino Però era il periodo Voglio dire La gente andava a lavorare La mattina presto E quindi capisco Che possa essere Credo che oggi Non succederebbe una cosa del genere Se la Juve vincesse la Champions Secondo me In qualunque ora del giorno Della notte Ci sarebbe Un macello incredibile Di entusiasmo Da parte dei tifosi All'epoca Non fu così Ma ci abbiamo pensato noi A divertirci Come si chiama tuo figlio? Mio figlio si chiama Dennis Perché? Perché ogni qualvolta lo chiamo Io ricordo di Dennis Bergamini Che per me è stato Un ragazzo Molto importante Che purtroppo non c'è più E per rispetto Agli inquirenti Che stanno facendo il processo Io non andrei oltre Perché sono convinto Che i giudici Mai come questa volta Vogliano veramente saltarne fuori E speriamo davvero Che la verità salti fuori Per tutte le persone Che gli hanno voluto bene Per la sua famiglia Che sono 30 anni Che aspetta la verità Perché era un ragazzo Davvero meraviglioso In gamba Una persona che A me mi ha fatto Da fratello maggiore Io all'epoca avevo 22 anni Lui aveva 27 Mi piace pensare Che sia lui Che Gianluca Vialli Sono i miei angeli custodi Che mi hanno aiutato Anche in questa vicenda A saltarne fuori E loro oggi Ne sarebbero felicissimi Una cosa te la voglio chiedere Però ovviamente Senza andarne allo specifico Perché hai detto Che c'è un'inchiesta in corso Cioè lui era il compagno Di distanza Quindi il rapporto Era strettissimo Io avevo vissuto A Cosenza Sì a Cosenza Avevo vissuto per i tre anni precedenti Con Gianluca Presici Che è un altro mio grande amico Che è uno di quelli Che mi è stato molto vicino E lui con Gigi Simoni A fine anno Gianluca Presici va nel Modena E Gigi Simoni va nel Pisa In ritiro ci troviamo io e lui E lui viene da me E mi dice Michi a me piacerebbe Venire a vivere con te Cosa ne pensi Ho detto Sei l'unico Con cui andrei a vivere Molto volentieri Quindi assolutamente sì Diciamo che Hai detto che credi Nella giustizia Giusto crederne Nella giustizia Anche da questo Sì 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 Sono molto fiducioso Assolutamente Tornassi indietro C'è una cosa Che non rifareste Partendo dal presupposto Che io non ho commesso Nessun reato Quindi io rifarei Tutto quello che ho fatto Però visto come l'ho pagata Forse qualche accortezza In più Ce l'avrei Non si può tornare indietro Con il senno di poi Non si fa La storia Non si fa la vita Qualche accortezza in più Sicuramente l'avrei Proprio per evitare Certi fraintendimenti Che sono stati Per me devastanti Nel libro Che abbiamo citato prima Ci sono anche Dei momenti Che spiegano bene Come tu fossi stato preso Di miraggio A un certo punto Ci sono delle intercettazioni In cui si parla Un signore Si parla di sacchi di erba E chi insomma Indagava Pensava l'erba fosse la droga Quel signore in realtà Era il giardino In casa tua Quindi sei passato Anche attraverso Delle cose Che erano limpide Però erano quasi difficili Da spiegare A chi Aveva un'idea Completamente diversa Chiaramente Le spieghi Al magistrato Che ti fa le domande Però Ha del surreale La cosa Perché ci pensi bene Ti assicuro Che dopo cinque ore Di interrogatorio Accusato di cose Fortissime Pesanti Io non sapevo neanche Come mi chiamavo E quindi a volte Non riesci neanche A spiegare la verità O a dimostrarla Perché è molto complicato E molto difficile Quindi io sono dell'idea Che la giustizia E la magistratura Secondo me Dovrebbero avere Un formamentis Che meglio 10 criminali fuori Che un innocente in galera Perché Togli tutto a un uomo Ma non gli toglie la libertà Cioè la libertà Anche perché Come ti dicevo prima La linea è molto sottile Cioè Se non hai Forza caratteriale Il rischio Di fare dei brutti gesti O di ammalarsi È molto 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 grande Per cosa è la libertà? È un bene prezioso Veramente molto prezioso Che riusciamo a capirlo Per farla soltanto Quando non ce l'hai più Perché Noi facciamo dei gesti Inconsueti ogni giorno Anche quello di Prenderci un caffè In un bar Quello di fare due chiacchiere Con una persona Che sembrano Banali Sembrano superficiali Ma non lo sono Perché quando ti viene tolta la libertà Che queste cose così semplici E così superficiali Non le puoi più fare Ci pensi e dici Mamma mia quanto mi manca Una roba così banale Così superficiale Quindi credo che la libertà Sia un bene prezioso Che vada Veramente Protetto Sempre E soprattutto Da chi dovrebbe Aiutarti sotto questo punto di vista Voglio chiudere questa intervista Chiedendoti invece Cos'è la felicità? La felicità sono momenti Meravigliosi Bellissimi Di cui io Sportivamente parlando Posso Riferirli Alla Champions Vinta Agli Scudetti Ma di vita privata Si parla di Una libertà Che mi è stata donata Dopo 17 anni di Calvario Quindi io non le paragono Le due cose Nella maniera più assoluta Perché Io non ho mai pianto Per la vittoria di una Champions O per la sconfittura Di una partita Per quel In quel giorno Io ho pianto Pianto di gioia E ho pianto assieme alla mia famiglia Perché È stata un'emozione Che Faccio fatica a trasferirti Alessandro Credimi Non ce la faccio Perché sono cose Che secondo me Puoi solo provare Grazie Michele E Assicuro che è stata dura Ascoltare la tua storia Non oso immaginare Quanto sia stata dura A raccontarla E di viverla Quindi sono Grazie Grazie di cuore Per avercela Per avercela raccontata Grazie a te A voi Bocca al lupo per tutto A presto Buona vita Storie di Serie A Storie di Serie A Su Radio Serie A Con RDS